Le novità sono abbastanza importanti, nel senso che il milione che era sparito dai radar qualche anno fa è stato rimesso, abbiamo colmato questo vuoto che si era creato negli anni, quindi c'è maggiore disponibilità nell'ambito sociale e riusciremo quindi a soddisfare una platea più ampia rispetto a quella degli anni passati, con l'intervento, con la delibera che abbiamo fatta che si basa su una maggiore equità delle erogazioni di quelli che sono i sostegni delle famiglie disabili e disabili stessi, riusciremo a soddisfare una buona parte della Corte dei 322 pazienti che erano rimasti fuori da quelli che erano i finanziamenti e i sostegni dovuti peraltro e riusciremo già da adesso da 428 che ne erano sostenuti, siamo arrivati a sostenerne 439, quindi un piccolo passo avanti, miglioreremo ulteriormente e cercheremo di, con i nuovi criteri che tendono a una maggiore equità, a sostenerne ancora di più.